Contributi in arrivo per i comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana finalizzati a contrastare il degrado e a riqualificare le periferie. Ne abbiamo parlato con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Abbiamo 8,5 miliardi in questo momento stanziati per i comuni per i progetti di riqualificazione urbana. Che cosa significa? Ricordiamo che in questo momento soffrono tutti, soffrono le attività sportive, soffrono anche le attività commerciali, le attività produttive, ma soffrono anche le attività sportive, le attività culturali. Questi progetti, 8,5 miliardi, servono per costruire spazi sportivi, spazi culturali e così potrebbero crearsi dei luoghi capaci di ospitare oggi tutte le associazioni culturali o associazioni sportive che sono in difficoltà e devono ripartire. Ma non è l'unica misura. In questi 8,5 miliardi voglio ricordare che c'è spazio anche per la riqualificazione di luoghi degradati. Pensate a Torre del Greco, la passeggiata sul porto potrebbe essere un punto che può essere riqualificato, come l'area giostre, l'area sportiva è all'aperto. Quindi c'è grande possibilità di poter riqualificare il proprio territorio e creare spazi utili anche all'economia. Ci vuole la cabina di progetto seria che il Comune attiva o tutte le risorse necessarie per fare in modo di non perdere nessuna occasione. Sono misure di interventi fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle? Sì, sono misure che parlano di rigenerazione urbana, di disuguaglianze periferie e anche riqualificazione. Noi in questo momento siamo molto impegnati alla transizione ecologica e alle disuguaglianze di questo Paese. Quindi pensiamo che si riparte risolvendo il problema delle disuguaglianze e si riparte con la nuova economia con cui aiutare le imprese che in questo momento sono in difficoltà per metterli di nuovo in campo con supporti digitali, con supporti in ambito ecologico, green. È un momento complesso ma allo stesso tempo tamponiamo, ci sarà un nuovo scostamento anche dopo questi 32 miliardi e ci saranno misure che in queste settimane proporremo anche di miglioramento del decreto dal Parlamento per i ristoratori, per gli affitti e quindi tutto questo è un impegno continuo.